Prevenire e ridurre i rischi di potenziali contagi per garantire agli operatori mercatali di lavorare in sicurezza. Lunedì 1 marzo gli ambulanti del mercato rionale di Torrione saranno sottoposti a screening anti-covid. Presso l'area di via Robertelli, un'unità mobile dell'associazione Humanitas di Salerno, sottoporrà agli operatori mercatali, tutti i cittadini che vorranno, a test rapido antigenico con il risultato nel giro di mezz'ora. A programmare la tappa dei test rapidi antigenici per gli operatori mercatali è stato il coordinatore regionale dell'AMBA, Ciro Pietro Fesa, a seguito di alcune indiscrezioni circa possibili casi di positività al covid tra gli operatori del mercato di Torrione. Lo screening a tappeto nei vari mercati rionali è un impegno assunto dalla nostra associazione nei riguardi di tutti gli operatori, ha dichiarato Pietro Fesa. I mercati sono luoghi resi sicuri anche grazie all'adozione e al rispetto di misure personale e collettive necessarie a limitare la propagazione del virus. Questa è un'iniziativa fortemente voluta dal presidente regionale dei mercatali, dove con nostro piacere, impegno e compartecipazione saremo lì presente con una nostra postazione mobile, dove i nostri volontari dell'Humanitas effettueranno uno screening a tutti gli operatori dei mercatali. La risposta la si avrà entro mezz'ora e quindi certo questo è un nostro impegno ma non è certamente risolutiva. Ovviamente sarà un'iniziativa volta a rendere più sicuri i luoghi mercatali ma soprattutto limitare un po' la propagazione del virus. La tappa dell'Humanitas al mercato orionale di via Robertelli a Torrione servirà come azione preventiva l'occasione per spingere i mercatali ad effettuare un tampone che magari diversamente in maniera autonoma non farebbero in un momento dove i contagi purtroppo aumentano. I contagi stanno aumentando ultimamente, la gente vive nella paura, nella disperazione totale, non esce più nemmeno per andare al supermercato a comprare un litro di latte e questa nostra iniziativa è utile a rafforzare un po' questo screening di prevenzione in modo tale da limitare la propagazione del virus. Vediamo che sarà un test rapido, sarà fatto comunque un tampone nasofaringeo? Sarà fatto un tampone antigenico rinofaringeo dove la risposta la si avrà nell'arco di 20 minuti circa. Attendibilità 85-90%. Grazie. 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 Grazie.